Ci vuole una voce divina, la voce che viene dai Vangeli. Questa è la compagnia del Teatro Officina che sta lavorando intorno al suo nome Era Giovanni, storia di un Papa nato e morto povero. Io sono Daniela Iroldi Bianchi, Massimo De Vita è il nostro direttore, Annalisa Iodice e Stefano Grignani. Noi tutti e quattro siamo Giovanni in diversi momenti, ovviamente un Giovanni maturo, un Giovanni giovane e noi siamo un po' nello spirito giovaneo. È possibile anche identificare una madre, una figlia, però sicuramente verso il finale le nostre figure si fondano. Il lavoro è stato fatto come un setacciare i testi rimasti da Papa Giovanni e non sono pochi e di due tipi, cioè gli uni sono i documenti ufficiali che lui ha emesso come pontefice che è stato significativo nella storia della Chiesa Cattolica dell'ultimo mezzo secolo, anzi all'inizio dell'ultimo mezzo secolo. E d'altro canto c'è la sua storia di giovane prete contadino della Bergamasca che è tutta documentata sia nelle lettere ai familiari, che sono appassionantissime e oserei dire curiose nel loro aspetto molto genuino, e poi in quella specie di autobiografia, di colloquio con se stesso, per avendo a pensare che sono le confessioni di Sant'Agostino, quando scrive il giornale dell'anima, che ha tenuto da quando era giovanissimo seminarista fino a quando è stato Papa. Su questo la setacciatura di cui dicevo ha portato vari quadri che si vedono in questa messincena, che io trovo notevole, non è per fare i complimenti a loro qua presenti, ma per la bravura degli interpreti, ma anche per la regia di Antonio Grazioli, che non è qui in questo momento, che ha saputo amalgamare ciò che altrimenti mi dava il timore che fossero quadri frammentari. D'altro canto il teatro non è fiction televisiva, grazie a Dio, e quindi il montaggio fatto da questi cinque artisti mi sembra assai plausibile, io spero che arrivi anche al pubblico dove un filo conduttore, un filo rosso, c'è. I poveri sono ancora traditi e soli, impedita è anche da noi la loro liberazione, e i fratelli continuano ancora a morire di morte caina. Descrivere questo lavoro non facile da interpretare, paradossalmente per la sua semplicità, mi sembra. La cosa più difficile è stato, provando insieme, riuscire a trovare quella semplicità, quella naturalezza, quella sincerità che rispecchia al meglio le parole, tutti i racconti di Papa Giovanni, e quindi in quello, secondo me, ruota la bellezza di questo spettacolo, sulla semplicità e l'assoluta sincerità con cui voleva far arrivare il suo pensiero. Umidità e amore, ecco le due virtù che mi sforzerò di amministrare, quanto a mostrarmi troppo sempliciò per dare l'occasione così agli altri di ridere alle mie spalle, non posso che godermi, vedendo così umiliato ancora di più il mio amore proprio, e vedendomi così faccio più simile a voi Gesù, che fu trattato da pazzo. A prescindere dal credo personale, dalla propria, dall'identità personale e religiosa di ognuno di voi, avvicinarsi a scritti di questo tipo e di questo cuore, potremmo dire, cambia qualcosa nella vostra, anche vita quotidiana? Ti rispondiamo? Sì, guarda, la domanda è particolarmente... Centrata, veramente? Ficcace. Ficcante anche, io me la sono fatta in questi giorni perché mi accorgevo che il mio sguardo si posava sulle cose in modo modificato. credo che uno dei problemi sia che noi non ci diamo del tempo, non ci diamo del tempo per noi, per gli affetti, per lo spirito, comunque lo si intenda, nell'accezione proprio di tutto ciò che non è la materia. E questo lavoro ci ha evidentemente obbligato a soffermarci su questo livello impalpabile della realtà, che è la spiritualità. e quindi in effetti una serie di cose poi ti cantano dentro. Fa velo a volte il linguaggio di Giovanni, che è un uomo che scriveva nel 1920-30, quindi ci sono anche delle parole un po' vetuste, che no, non sono le parole che magari ti sgorgano dal cuore. Però c'è una grande pulizia, cioè lui è proprio un bicchier d'acqua, non c'è niente dietro, sopra, sotto, nascosto, è un po' come questo Papa Francesco, cioè capisci tutto, capivano tutti infatti, non c'era nulla da interpretare. E quindi questo poi pian piano lavora, ecco, cioè effettivamente è come se uno sguardo ulteriore successivo si appoggiasse sulle cose, che non vuol dire né la grazia né la fede, vuol dire semplicemente che si fa più largo l'orizzonte. Vestiti della festa e scarpe per andare in chiesa dovevano durare anni e anni. Ma quando un mendicante si affacciava alla porta della nostra cucina, per lui un posto c'era sempre. E nostra madre lo faceva sedere accanto a noi, sempre. Ogni essere umano ha diritto all'esistenza, un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda alimentazione, vestiario, abitazione e servizi sociali necessari. Trenta bocche da saziare, tre volte al giorno. A tutto provvedeva il buon Dio, il buon Dio provvedeva ai campi ben lavorati, gli animali della stalla, il timor di Dio che manteneva l'ordine, la serenità e la pace delle campi. Prima mentre seguivo le prove mi ha colpito, tu se non sbaglio hai detto, il Papa buono come se gli altri, effettivamente è una contraddizione quella. Ecco, li sono quelle zampatine che ho dato qua e là, volendo mettere dei luoghi comuni, del costume italiano, del benpensante o meno, anche magari chi l'ha detto in buona fede, oppure a volte certa stampa miccante, effettivamente il Papa buono è veramente quasi offensivo per gli altri, anche se chiaramente le differenze, specie con i predecessori, anche con l'immediato predecessore di Giovanni XXIII c'erano. Daniela, prima ha parlato di un velo del linguaggio di Papa Giovanni, si è parlato della semplicità, ed è sia il velo della semplicità che ritroviamo nella scenografia. Ora, a prescindere che ve lo serve anche per le condizioni, però è una scelta, credo, abbastanza evidente, che tutto rappresenti una distanza-non distanza tra il Papa e il Papa. Sì, certo. La scelta di semplicità della scenografia è stata orientata subito da Grazioli, e ben recepita dalla scenografa che in questo caso è Alice Benazzi, a cui ha dato una mano il buon Gianluca Martinelli, la richiesta era che ci fosse forte la dimensione della povertà. Quindi la semplicità qui è proprio l'essenzialità dei materiali, rimando anche a una cultura contadina. Cioè la barra al centro era questa, cioè la povertà. Inizialmente si pensava addirittura di riuscire a fare in modo tale che l'immagine finale fosse solo la croce, in una spogliazione progressiva. Poi in realtà noi lavorandoci ci siamo accorti che avevamo bisogno di, comunque degli oggetti che sostenessero questa cosa. Però sì, e questa cosa del velo in effetti hai ragione, perché crea, serve tecnicamente certo per farci delle proiezioni, per cui ci sono tre piani in questo spettacolo. Questo del palcoscenico, quello sotto il palcoscenico, dove sta peraltro il trono di Papa Giovanni, e da alcuni momenti nostri, e questo piano verticale. Però visto dal palcoscenico, dalla platea, il veo crea proprio una sospensione, che noi sembriamo proprio... e questo è interessante perché a volte è anche questa vicinanza-distanza che fa penetrare le cose, perché le cose ti devono essere certamente vicine, ma anche guardate con un occhio, con un filtro che te le rende leggibili. Nato povero, madonna nata e umile gente, sono particolarmente lieto di morire povero, avendo distribuito ai poveri la Santa Chiesa quanto vende fra mano. Ringrazio Dio di questa grazia e della povertà di cui feci voto nella mia giovinezza, povertà di spirito e povertà reale. Ringrazio Dio di questa grazia